Bene, in due parti l'intervento, ho chiamato questa prima parte oltre alle colonne d'Ercole perché mi piace l'idea di raccontarvi una storia, una storia che forse a qualcuno di voi è abbastanza nota, ma perché parto dalle storie? Perché tutti abbiamo bisogno di storie fin da piccoli, il nostro cervello è programmato per vedere storie ovunque, il mio amico Federico Favotte che fa lo sceneggiatore mi ha spiegato questa nostra capacità intrinseca di raccontare la nostra vita attraverso le storie perché le storie sono molto potenti, perché le storie sono interessanti, perché simulano tutto quello che dobbiamo affrontare ogni giorno e spesso in queste storie, pensate alle storie che hanno animato la vostra infanzia, c'è un eroe, c'è un eroe che si sacrifica, a volte addirittura muore, perché prende il nostro posto, rappresenta un po' quello che noi potremmo essere e fin dall'antichità con i miti eroi, anzi proprio il termine mitos significa narrazione, noi abbiamo sempre cercato di spiegare fenomeni naturali, anche le domande dell'anima attraverso i miti, questa narrazione è stata al centro del lavoro di un professore di letteratura statunitense, lui si chiama Joseph Campbell, ha scritto un libro, l'eroe con mille volti e in questo libro lui cosa ha fatto? Ha scoperto che alla fin fine guardando tante storie della letteratura, pensate anche voi alle storie del cinema e quant'altro, si trovano dei pattern, cioè dei percorsi che si ripetono, lui ha chiamato questi percorsi il viaggio dell'eroe e il viaggio dell'eroe è un viaggio circolare e oggi mi piacerebbe con voi ragionare sul fatto che anche voi ragazzi e anche voi aziende in questo momento state facendo di fatto il vostro viaggio dell'eroe, è un viaggio che parte da un mondo ordinario, in tutte le storie c'è un quotidiano, c'è una storia che ci prende, c'è una chiamata, sentiamo la vocazione a fare qualcosa di diverso, che ci porti fuori da quelle cose che viviamo ogni giorno, che ci portano verso un mondo non più ordinario ma straordinario e spesso questa chiamata viene anche rifiutata, non è facile per tutti accoglierla, allora spesso abbiamo bisogno di una guida e questa guida magari ci aiuta a superare la soglia, a portarci in questo mondo straordinario, in questo mondo straordinario affrontiamo le prime prove, non queste prove sono facili, a volte sono molto complesse, ci avviciniamo a una grande prova, una prova centrale, in tutti i film, in tutte le favole, in tutti i racconti della letteratura c'è questo momento topico, in questo momento topico spesso si va in crisi e questa crisi a volte viene risolta con un premio, a volte veramente ci si sta male e bisogna ricominciare a partire, su questa via del ritorno rientriamo nel nostro mondo dell'ordinario, a una nuova vita e questa nuova vita porta alla risoluzione magari dei problemi che avevamo, questo viaggio dell'eroe è un viaggio che è riscontato in tante storie, ho provato a prendere alcuni eroi magari che conoscete, forse il più famoso di tutti di questi eroi è, lo conoscete Ercole, è l'eroe per antonomasia, capostipite di mille antiche storie che parlano anche di Achille, di Perseo, di Enea eccetera eccetera, ce ne sono altri di eroi, la Marvel ha celebrato recentemente Thor, anni fa in un film Matrix c'era Neo, qualcuno innamorato magari di Tolkien, si ricorda del Signore degli Anelli e quindi di Frodo, un mio eroe anche dello sport, forse alcuni di voi è Michael Schumacher, Guerre Stellari con Luke Skywalker, Iron Man per restare sempre nel mondo della Marvel, Freddie Mercury per chi ama la musica, Harry Potter, ecco tutti eroi che a volte hanno viaggiato in questo percorso circolare, hanno vinto, a volte non hanno vinto, quindi a qualcuno è andata bene, ho messo dei simbolletti per ricordarci a quanti di questi hanno avuto una storia più o meno facile, insomma Luke Skywalker dipende da quale degli episodi di Star Wars consideriamo, un eroe particolare, se vi ricordate l'ultimo film degli Avengers è Thor, che in realtà sconfitto si dà alla birra, quindi quasi un controeroe, ma queste storie perché ci affascino? Perché c'è stato un eroe che è arrivato sul tavolo delle aziende e anche magari avete sentito voi parlare ragazzi a scuola, è il mondo eroico dell'industria 4.0, perché è un mondo eroico? Perché ha promesso in qualche modo di farci fare un viaggio straordinario, di trasformare la vita digitale nel mondo industriale, nel mondo sociale, nei nostri aspetti, però è stato un eroe che ha compiuto il suo viaggio, è stato un eroe vincente o forse è più simile a Thor, nel senso che ha promesso tante cose ma ha avuto anche delle sconfitte, di fronte a queste sconfitte si è abbandonato a un boccale di birra. Allora ho provato a parlare di un altro eroe oggi e mi affido anche a una canzone di Enrico Ruggeri, per introdurlo. Con il passato che ho, dopo mille battaglie e pericoli, di niente al mondo mi pento nemmeno il vento è più curioso di me. Magari non è proprio nei vostri generi musicali, però l'introduzione è molto bella perché Ulisse è uno degli eroi più famosi della mitologia greca, è cantato da Omero nell'Iliade e soprattutto nell'Odissea, però è un eroe molto particolare se ci pensate perché non è un dio, non è nemmeno un semidio come l'ora Ercole, è uno di noi, è una persona normale, non ha nessun superpotere, ma coltiva altri talenti che ne determinano il destino. Il suo stesso nome, Ulisse, o meglio Odisseo, Odisseo ha nella radice odio perché le sue caratteristiche, la sua intelligenza, la sua caparbietà lo fanno addirittura odiare dagli altri uomini ed è un eroe molto particolare perché pensate è stato talmente cantato che per lui ci sono cinque destini nella storia e nella letteratura. Per qualcuno l'ha fatto morire a Itaca, qualcuno in un'altra versione l'ha fatto ripartire lasciando Itaca, ci sono altre versioni, Plino il Vecchio lo fa addirittura morire di vecchiaia, invece Valerio Massimo Manfredi lo rende immortale, ma c'è una quinta versione, forse la più bella, la più affascinante, quella da cui partiamo oggi per parlare di un viaggio di un eroe che può essere uno di voi, è la storia di Dante. Dante pone Ulisse nel ventiseisimo canto dell'Inferno. Ulisse perché ha l'Inferno, lo vedete a destra nella fiammella con Diomede, perché lui ha compiuto un viaggio strano dell'eroe, nel senso che non è stato un viaggio circolare, è un viaggio che finisce malissimo. Qua ci sono alcune terzine dantesche, ma insomma non mi soffermo su queste terzine perché voglio andare un attimino oltre. Cosa fa Dante di drammatico che lo porta all'Inferno? Fallisce clamorosamente il suo viaggio. Forse vi ricordate qual è la storia, ma comunque diciamo che al termine del percorso della sua vita prende i suoi uomini stanchi e li convince ad andare oltre le colonne d'Ercole. Le colonne d'Ercole cosa rappresentavano? Rappresentavano non solo un confine geografico, ma il confine della conoscenza. Lui si è affamato di conoscenza e affronta quel viaggio per capire cosa c'è oltre, ma commette quattro drammatici errori. Il primo, per la prima volta, non ha gli strumenti adeguati, non ha le giuste vele, non ha il giusto timone, non ha una bussola, non si orienta nel modo corretto. Per la prima volta nella sua vita parte un equipaggio che non è pronto e, quarto errore, forse maggiore, non ha una meta. Per la prima volta lui non sa dove andare. Ecco, ho provato a declinare questi quattro errori di Dante, quattro errori nel suo viaggio dell'eroe che non si compie perché non è circolare, come le quattro sfide invece che voi ragazzi dovete affrontare e che le aziende attraverso voi affronteranno. Perché sono sfide difficili? Perché queste sfide avvengono in un mondo che è diventato clamorosamente complesso. Noi viviamo in tempi complessi. Un grande imprenditore triestino, Ernesto Illi, ha scritto, quando la vita scorreva lenta come un pigro fiume, la complessità esisteva, ma non veniva percepita. Oggi tutti se la sentono addosso perché il ritmo si è fatto serrato come un torrente vorticoso. La complessità è qualcosa di molto particolare. Pochi lo sanno forse, ma Ernesto Illi non era solo un grande imprenditore, era anche un chimico, era amico di un grande chimico, di un chimico e fisico russo, Ilia Prigogin, che ha vinto nel 1977 il premio Nobel per la chimica attraverso i suoi studi sulla complessità. Cosa ha scoperto, e non voglio andare nei dettagli, Prigogin sulla complessità, che ci travolge in questi tempi vorticosi, ha scoperto che è caratterizzata da due aspetti, discontinuità e continuità. Queste due dimensioni, che noi pensiamo che siano una in contrasto rispetto all'altra, in realtà possono convivere. Esistono sistemi estremamente continui, che però essendo troppo continui rischiano di morire per fossilizzazione, come fu per i dinosauri per esempio, oppure sistemi troppo discontinui, che però rischiano di morire per disintegrazione. E questi sistemi che disintegrano tutto quello che stiamo facendo non ci consentono di evolvere. Quella zona in mezzo, che fa parte della teoria della complessità di Prigogin, è chiamata orlo del caos. Non è casino, è caos proprio, è come il principio greco di ciò che c'era prima degli uomini e degli dèi, ed è l'unico luogo in cui ci può essere evoluzione e sviluppo. L'orlo del caos ha tantissimi esempi in natura, nella meccanica e quant'altro. Uno degli esempi forse più classici nell'azienda è la ricerca e sviluppo, ricerca intesa come appunto disintegrazione, sviluppo come continuità. Però l'onda che vedete rappresentata sotto è un esempio naturale di quello che è un orlo del caos. La cresta dell'onda in particolare è il punto di massima energia del mare, che prima è stasi, poi aumenta l'energia e prima di infrangersi, cioè di disintegrarsi, arriva nella schiuma, raggiunge l'apice. Questo apice si dice anche stare all'orlo del caos, solo le grandi persone, i grandi del passato, solo le grandi aziende sanno stare all'orlo del caos. E quindi su quest'onda, su queste quattro onde che coesistono, mi piacerebbe oggi raccontare cosa devono fare i nuovi eroi. Voi ragazzi siete i nuovi eroi e dovete imparare a cavalcare queste quattro onde assieme alle aziende in cui andrete a lavorare fra qualche anno. Sono quattro onde diverse tra i loro, ma sono compresenti e bisogna trovare le tavole da surf giuste per affrontarle. La prima di queste onde è sicuramente l'onda che non affronta bene il primo errore che compie Ulisse nel suo viaggio. Dobbiamo avere gli strumenti giusti. Cosa sono gli strumenti di oggi? Sono queste tecnologie abilitanti, questa trasformazione digitale. Succedono cose strane in questa trasformazione digitale. A volte l'ha prefigurata i film. Vi faccio vedere un spezzone di un film che sicuramente qualcuno di voi aveva visto. Il mondo si unì mettendo in comune risorse e mettendo da parte vecchie rivalità per l'amore di un bene più grande. Per combattere i mostri creiamo dei mostri a nostra volta. Nacqua il programma Jäger. Ecco questo film che è un film dove ci sono grandi robot che affrontano dei grandi mostri è un film di fantascienza 2013. Quando l'abbiamo visto magari sembrava un film un po' sparato. Persone che si collegano direttamente a un robot. Ecco quando ci sono delle cose strane c'è una persona al mondo che le intercetta tutte. Questa persona lo conoscete probabilmente è Elon Musk. Lui cinque anni fa ha fondato Neuralink che è un'azienda e si prometteva con questa azienda di connettere direttamente il cervello delle persone a dei computer per estendere le funzionalità. L'hanno preso tutti per pazzo. Ha detto in quattro anni io ce la farò collegare a questo cervello. Ha cercato permessi per fare esperimenti eccetera eccetera. Alla fine è riuscito ad andare avanti. Lo scorso anno in pieno covid è comparso Elon Musk e quella a sinistra lo dico per tutti e quella invece a destra è Gertrude ed è apparso in pieno lockdown collegando un microchip al cervello di questo maialino e questo è quello che veniva fuori. Il maialino era collegato e trasmetteva questi impulsi. Siamo arrivati a livelli di Pacific Rim. Attenzione alle date importanti. 31 agosto 2020. Forse un mese fa avete letto o qualche mese fa avete letto questa nuova storia. Questo è Pager. Questo è uno scimpanzè di nove anni che sta giocando a Pong connesso telepaticamente col videogioco. Non è un fake. È tutto vero. 9 aprile 2021. Stiamo andando. Queste tecnologie abilitanti iniziano a promettere veramente delle cose incredibili. È un mondo che arriva però va governato. Altrimenti rischiamo di essere travolti da quest'onda anziché cavalcarla. Perché va governato? Io spesso uso questa immagine che le tecnologie abilitanti in realtà sono come il primo frazionista di una staffetta 4%. Chiunque di voi abbia fatto sport o abbia visto comunque una staffetta 4% sa che il primo frazionista in realtà non viene mai scelto perché è il più veloce. Viene scelto perché reagisce molto rapidamente al colpo della pistola e perché è in grado di accelerare molto velocemente. Usain Bolt non partiva per primo. Faceva l'ultima frazione. E perché dico che le tecnologie sono il primo frazionista? Perché le aziende possono comprarle, possono copiarle eccetera ma non sono le tecnologie che fanno vincere l'intera staffetta. E molto spesso dopo la prima frazione tutte le squadre sono allineate perché è l'accelerazione che fa la differenza, non la velocità. Tecnologie abilitanti siamo travolti, realtà aumentata, realtà virtuale, i cobot cioè i robot collaborativi, le blockchain, la stampa additiva, il manufattino additivo, l'internet delle cose. Tutte cose che effettivamente stanno arrivando ma appunto sono tecnologie abilitanti, sono solo primo frazionista, non sono ancora così mature perché anche nell'azienda non sono ancora così tanto mature e lo scoprirete andando a lavorare in queste aziende. Lo stanno scoprendo anche i manager d'azienda quando si affacciano queste tecnologie e soprattutto nel necessario di integrazione. Cioè io posso scegliere oggi una tecnologia ma rischio di sbagliarla perché fra due anni quella tecnologia non sarà più la tecnologia del sistema, della mia supply chain, dei miei clienti, dei miei fornitori. Allora dobbiamo mettere le tecnologie al giusto posto e dobbiamo affrontare la seconda onda. Queste tecnologie se ci pensate raccolgono tanti, moltissimi dati, ma questi dati hanno bisogno di orientare le scelte dell'azienda, sono la bussola dell'azienda, è la bussola che mancava a Dante, con quella bussola magari avrebbe evitato di schiantarsi sull'isola del Purgatorio, oltre alle colonne d'Ercole, non sarebbe finito l'inferno. È una bussola che oggi si trasforma in un concetto di fondo, i dati sono sempre di più, sono sempre di più, è molto più semplice immagazzinare le informazioni, ricercarle, condividere, elaborarle, questa tante generazione che ha trovato le informazioni su internet, io andavo ancora in biblioteca e questo processo è un processo circolare, pensate che l'80% delle informazioni che oggi costituiscono un database mondiale sono state generate negli ultimi 5 anni, è un processo esponenziale, ragionando a ritroso significa che solo l'1% dell'informazione mondiale a livello economico, sociale, storico è stata generata e costituita prima del 2000, è una cosa, parliamo di zettabyte di informazioni, zettabyte di informazioni che vanno governate, si parla di big data, ma spesso questi dati non sono tanti, sono troppi, bisogna trovare il modo di intercettarli, come si intercettano i dati? Bisogna avere le chiavi di lettura giuste, se io adesso vi chiedessi, ok dicevo che, adesso ormai ho spoilerato, qui in questa immagine che sembra fatta di tante macchie c'è un cowboy a cavallo, non tutti lo vedono, c'è bisogno di una chiave di lettura per vederlo, allora queste chiavi di lettura esistono, esistono nel mondo aziendale, esistono anche, penso che molti di voi ragazzi sanno cos'è la business intelligence, cos'è il machine learning, cos'è gli advanced analytics, essenzialmente si tratta di riuscire a affrontare queste tematiche guardando statistiche descrittive che mi spiegano cosa è successo, questi big data, questi tanti dati raccolti, se io riesco a capire cosa è successo ho dei motori diagnostici, chiaramente supportati da algoritmi più sofisticati che riescono a spiegarmi cosa è successo, potrei avere anche dei motori ancora più evoluti, perché se so cosa è successo e comprendo perché è successo potrei anche immaginare cosa succederà, fare delle statistiche predittive e a maggior ragione sarebbe molto bello avere dei sistemi e quando entriamo nel mondo pieno del machine learning, dell'intelligenza artificiale in cui chiedo al sistema cosa devo fare per ottenere un certo risultato. cose che sono già utilizzate, quando Amazon brevetta il suo algoritmo, l'anticipatore di shipping e dice what you want before you want it, significa io metto nei negozi e metto in rete esattamente quello che tu vuoi prima ancora che tu lo voglia e come lo fa? Studiando i nostri comportamenti, studiando i nostri like, studiando il nostro Instagram, il nostro Facebook, il nostro TikTok e quant'altro. è la seconda onda, ma c'è una terza onda fondamentale e forse l'onda su cui oggi vorrei concettarmi di più con voi è quella dell'equipaggio, delle competenze, della cultura. Per la prima volta Dante parte per un viaggio con un equipaggio stanco, non pronto, non formato, non al passo con i tempi e allora qua c'è un nuovo mondo che viene avanti, questo nuovo mondo è descritto molto bene in un report che è il report del World Economic Forum, è appena uscito, uscito in tempo pieno Covid, si legge in questo report interessante, nel prossimo decennio più di un miliardo di posti di lavoro saranno trasformati dalla tecnologia, attenzione le parole sono importanti, trasformati, non eliminati dalla tecnologia. Solitamente ci prende molto bene questo report, l'ho letto due anni fa, l'ho letto quattro anni fa e ha sempre intercettato il futuro nel modo corretto. Altra affermazione che si legge all'interno di questo report, il futuro del lavoro non avrà a che fare con la laurea, ma con le competenze. Non sarà solo per laureati, sarà anche per diplomati o per persone che fanno un corso post diploma su queste competenze. A tal punto che questo signore, che è l'Aslo Bok, è stato vice president di Google, ha detto, quando guardi il mondo, quando guardi le persone che non vanno a scuola e si fanno strada, ti rendi conto che sono esseri umani eccezionali e dovremmo fare tutto il possibile per trovare quelle persone. Queste persone stanno entrando in un mondo del lavoro che non è più quello di una volta. Sempre nel report sono indicati i 20 profili crescenti e i 20 profili decrescenti a livello di offerta e di domanda. Nella parte sinistra sono i profili che crescono. Guardate chi sono i primi tre. Al primo posto ci sono i data analyst e i data scientist. Al secondo posto ci sono gli esperti di machine learning e di intelligenza artificiale. Al terzo posto ci sono gli specialisti di big data. Tre professioni che cinque anni fa di fatto non esistevano o comunque non erano le più richieste. Sta tutto cambiando. Sta cambiando dal punto che i giovani entrano in azienda e si fa quello che viene chiamato reverse mentoring, perché voi giovani portate la cultura digitale e formerete i senior, quelli che hanno più anni di voi, a volte pochi anni più di voi, vi giuro. E loro invece vi aiuteranno a entrare col know-how aziendale, con l'esperienza. E questa pace generazionale è alla base dell'azienda che crescerà nei prossimi anni. È un percorso molto importante. Questo signore che sorride, per forza che sorride, Eric Schmidt, lui è stato AD, CEO di Google, ha scritto un libro, Come funziona Google, che non dice come funziona Google, dice come funzionano i modelli di business di aziende emergenti che hanno fatto successo negli ultimi anni. E lui dice che queste aziende hanno una caratteristica particolare, sono piene di creativi smart. Chi sono i creativi smart? Mi piacerebbe dire persone di tutta l'età, perché essere smart non ha a che fare con l'anagrafe, però molto spesso sono giovani, giovani come voi. Che caratteristiche hanno questi giovani? Non amano fare cose ripetitive, si assumono dei rischi, lavorano tantissimo ma si annoiano anche molto facilmente, vogliono avere accesso a questo mare di informazioni, a questi big data, e sono anche dei rompiscatole, esprimono molto dissenso. E se le aziende non diventano attrattive nei vostri confronti, e se voi non evolvete e trovate il vostro contesto in un'azienda attrattiva, sarà molto difficile che quel rapporto di lavoro vada avanti. È una cosa che sta cambiando, è una cosa che sta cambiando perché c'è una quarta onda da affrontare insieme. È un'onda importantissima, è l'onda che ci porta a una meta, all'isola del Purgatorio, possibilmente senza naufragara sul di essa. È il tema dei nuovi modelli di business, che sono basati tutti su ecosistemi cooperativi. Come sono fatti questi ecosistemi cooperativi? Voi siete di istituti tecnici superiori, qualcuno ha fatto latino, qualcuno no, però il latino dice cose molto interessanti e spiega anche questo disegno, questo grafico. Ci sono, sfrutterò le formiche, sfrutterò il latino, ma veramente è una cosa spero poco noiosa. Il primo è un caso a sinistra di coordinamento, dal latino co-ordino. Una persona ordina, in questo caso una formica, l'altra persona fa di due entità una sola lavora, l'altra esegue. Difidate dei coordinatori, sia a scuola che nelle aziende. Il secondo caso è un caso di collaborazione, collaboro, faccio un lavoro insieme, nessuna di queste due formiche da sola è in grado di portare quella bacca al formicaglio stasera, ma insieme, facendo lo stesso sforzo, arriveranno a mangiare con la bacca stasera insieme. È il doubt des, è la reciprocità diretta, si dice, ed è qualcosa insomma che magari tutti sono capaci di fare. La vera impresa è la cooperazione. Ho detto volutamente impresa, perché il termine cooperativa, cooperazione, è stato un po' trasformato negli anni, ma deriva dal latino cooperare, cioè fare un'impresa insieme. Come quelle formiche, che si sacrificano alla base facendo da ponte, alle altre formiche che accedono alla foglia e magari al nettare. Oggi loro mangiano e le altre no, ma è come un so, è come l'evangelico che dà un po' fastidio anche al catechismo, date vi sarà dato. Relazioni win-win, basate sul valore reciproco. Le nuove aziende, le nuove supply chain sono basate soprattutto sulla cooperazione, sul fare qualcosa, non sperando che qualcuno ti dia qualcosa in cambio, ma basato sulla reputazione, sul mettere insieme fattori comuni che consentono di evolvere. Così stanno nascendo le nuove supply chain, le nuove catene del valore, fornitori che trasmettono materiali e informazioni a produttore, a distributori, a rivendite, ai clienti finali. Tutto questo sistema è interconnesso, ma soprattutto è iperconnesso. Queste informazioni vanno nel cloud, queste informazioni richiedono di essere condivise, richiedono relazioni win-win, in cui bisogna, voi ragazzi siete più abituati forse di noi anziani a farlo, bisogna condividere, bisogna essere molto social anche nel mondo aziendale, perché bisogna mettere insieme ciò che si sa, bisogna essere trasparenti e bisogna fidarsi degli altri. Su questi modelli di business si sta basando il futuro. Il viaggio dell'Aeroe 4.0, per cui, che vi aspetta, è sì circolare, ma deve declinare nel vostro caso. Il vostro mondo ordinario è un mondo dove il business delle aziende che vi accoglieranno è ancora un business 3.0. È ancora fermo la terza rivoluzione industriale, se sarete fortunati. Avete un quotidiano che è pieno di rischi, ma anche di opportunità. È il momento delle scelte. Ci sarà una chiamata, una proposta evolutiva. Per qualcuno sarà già andare a lavorare in un'azienda, spero per voi, 4.0. Avrete bisogno di una guida. Oggi è la scuola, domani potrebbe essere l'università. Dovete varcare la soglia nel momento in cui entrarete nel mondo del lavoro. Potrà essere fra un anno, fra due anni, fra cinque anni, fra sei anni, non importa quanto, ma sarà difficile. Affronterete prove difficili, perché quelle quattro onde che abbiamo visto sono spesso non comprese neanche dalle aziende. Queste prime prove vi porteranno ad avvicinarvi a una prova centrale. Questa prova centrale è prendere quello che sapete, prendere quei metodi, prendere gli strumenti che l'azienda vi darà, o con voi stessi suggerirete all'azienda, e magari a volte affrontare anche la crisi, a volte quelle cose funzionano, a volte non funzionano. Allora ci sarà un'evoluzione vostra, forse anche una delusione. A volte l'eroe fallisce, a volte l'eroe muore, a volte risorge. Però poi c'è un premio. Comunque vada, crescerete professionalmente. Questa crescita professionale vi riporterà con un cambio culturale nel mondo ordinario. Ma questo mondo ordinario, a questo punto, sarà cambiato, perché l'esperienza che avrete fatto vi porterà a essere persone che pensano con la filosofia della quarta rivoluzione industriale, con questa trasformazione digitale che è sicuramente una rivoluzione, non è solo un'evoluzione, e che sicuramente porterà a risolvere molte cose nell'azienda o nelle nuove aziende che voi affronterete. E questo è un processo circolare, un processo che aumenterà la vostra conoscenza, ma soprattutto aumenterà il valore vostro come persone, delle persone con cui lavorerete, e dell'azienda con cui lavorerete. E bisogna ricominciare ad andare avanti. Non bisogna però fare quello che ha fatto Dante. Lui ha fallito questo percorso perché aveva dimenticato a casa le tavole da surf per affrontare quelle quattro onde. Allora il mito della caverna, per restare a ciò che diceva anche all'inizio Joseph Campbell, è attenzione, mettiamoci in quella caverna, perché molto spesso in quella caverna che oggi temiamo, c'è il tesoro che stiamo cercando. Consigli da persona che da 25 anni vive il mondo delle aziende e vive anche il mondo della docenza. Prima cosa, abbandonate le certezze, dovete essere pieni di dubbi. I dubbi aiutano, non bisogna avere paura, bisogna lasciarsi trasformare da quello che succede, siate curiosi. Imparate le tecnologie, ma date le tecnologie al giusto ruolo. Io dieci anni fa lavoravo col Blackberry, non c'era neanche gli smartphone. E qualunque tecnologia oggi imparata a scuola o imparata all'università, sarà una tecnologia che in cinque anni potrà essere superata, a volte in due anni potrà essere superata. Allora quello che conta sono le persone, voi stessi, le persone con cui lavorate, i processi organizzativi dell'azienda, la cultura che vi farete. Questa aiuterà a trasformare la vostra vita professionale e vedrete che trasformerà anche la vostra vita personale. E poi, mi raccomando, ricominciate sempre il viaggio. Per cui il messaggio finale è questo. Per secoli gli analfabeti sono state le persone che non sapevano leggere e scrivere. Gli analfabeti del nuovo secolo che voi state iniziando a cavalcare, sono quelli, gli analfabeti saranno quelli che non saranno in grado, come dice Toffer, di imparare, disimparare e reimparare. Allora bisogna aprirsi all'innovazione. Dovete essere persone che fanno dell'innovazione un fatto culturale. L'innovazione, ha detto Alberto Felice De Toni, che è stato rettore dell'Università di Udine, che è stato il mio mentore e che mi ha insegnato proprio questo, mi ha insegnato ad essere disobbediente. L'innovazione è sempre una disobbedienza andata a buon fine. Quello sopra lo conoscete? Qualcuno di voi, so, è collegato, è del liceo scientifico Niccolò Copernico, quindi non devo spiegare a loro che era un matematico polacco, che tra il 1507 e il 1511 teorizzò il fatto che non era proprio ferma la terra in mezzo all'universo, ma eravamo noi a ruotare intorno al sole e anche il sole ruotava in realtà. Ci volerò più di cento anni, Galileo Galilei, con una tecnologia abilitante di quegli anni, col cannocchiale, a dimostrare scientificamente quella teoria, ma non gli hanno dato un premio Nobel, anzi l'hanno messo in galera, l'hanno fatto abbiurare. A volte per andare avanti, per innovare bisogna disobbedire. La seconda legge dell'innovazione, che vi lascio con questa parte finale, è che l'innovazione significa dare credito ai dubbi più che alle certezze. Dovete veramente avere dubbi. L'immagine è tratta dal film App della Pixar, guardatela, è un film che racconta proprio questo percorso delle persone verso una nuova vita, non fatta su tante certezze. La terza, fondamentale, non fate questo errore, l'innovazione non richiede esperti, richiede esploratori. Chi è l'esperto? È una persona con un badile in mano che scava, scava un buco, scava un buco e continua a scavare quel buco. E più scava, più il cielo si è lontana e più il buco diventa nero. E a un certo punto vede solo il buio del suo buco. Dovete imparare a uscire da quelle tane, dovete imparare a fare tante buche e a scavarne alcune e lasciarla quando quella tecnologia diventa obsoleta. Dobbiamo esplorare uno spazio infinito di possibilità. Il quarta cosa, a me hanno insegnato anni fa che fare le cose complicate era una sfida per pochi. Questo è John Maida, forse nessuno ve lo conosce, è un innovatore, lui ha inventato il nuovo iPod. Prima dell'iPod c'erano i Walkman, che erano decisamente diversi. Cosa è questo iPod? Era semplicissimo. Quando l'ha presentato gli hanno detto è troppo semplice, ce lo copieranno tutti, è troppo banale. Ma è stato rivoluzionario, l'innovazione sceglie spesso la semplicità. E quinta e ultima legge, l'innovazione, attenzione, sceglie anche la periferia. Questo è un trolley. Chi può aver inventato il trolley? Uno immagina il centro di ricerca e sviluppo della più grande azienda di valigia al mondo, che è Samsonite. Niente di più falso. È stato inventato da Robert Platt, che era un pilota di una compagnia aerea americana. Si era stancato di andare in giro con queste valigioni pesantissime. Un giorno nel garage di casa vede il monopattino di suo figlio, lo spacca, ci mette sopra la sua valigia, la monta sopra e va in aeroporto con questa valigia. con le ruote. Tutti lo prendono in giro, ma dopo un po' capisco che c'è del business. Assieme ai suoi colleghi fonda la Travel Pro e questa è stata la più grande rivoluzione nel mondo del volo. Hanno rivoluzionato gli aerei, le carlinghe, i sistemi di smistamento dei pacchi, eccetera, grazie a questo. Non l'ha inventata Samsonite. Allora bisogna fare questo. Quello che ha fatto forse il più grande innovatore degli ultimi anni, che ha lasciato un messaggio al genere che dedico a voi. dedicato ai folli, agli anticonformisti, ai ribelli, ai piantagrani, a quelli che non si arrendono davanti all'evidenza, a quelli che vedono le cose in modo diverso. Costoro non amano le regole e non hanno alcun rispetto per lo status quo. Potete citarli, essere in disaccordo con loro, glorificarli o denigrarli. Ma l'unica cosa che non potrete mai fare è ignorarli. Perché loro cambiano le cose. Loro fanno progredire l'umanità. E mentre qualcuno potrebbe definirli folli. Noi ne vediamo il genio. Perché solo quelli che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo, lo cambiano veramente. Com'è? Solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo, lo cambiano davvero. Sono i creativi smart. Siete voi. Avete quattro onde da affrontare senza fallire. Siete gli eroi del futuro, ma gli eroi umani, come Ulisse. Ma l'augurio è che stavolta le tavole del FES siano quelle corrette. Io in questa prima parte ho parlato soprattutto alle persone che abiteranno questo futuro, cioè a voi ragazzi. Farò lo stesso intervento dopo la pausa, però anziché illuminare la parola persone, illuminerò la parola aziende e proveremo a prendere queste quattro onde e declinarle nel contesto aziendale. Così i manager vedranno il punto di vista loro, ma spero che qualcuno di voi resti anche nella seconda parte. Prima di passare alla seconda parte abbiamo ancora molte cose da fare, in particolare affidarci a chi è veramente esperto di queste tematiche. Per cui io spegnerei la mia condivisione e darei invece video, schermo, voce e soprattutto scientificità all'intervento di Francesco Seghezzi che ci racconterà com'è questo mondo che sta per accogliere la sfida digitale nel mondo del lavoro.